Sotto i tabelloni la Scandone sembra quest'anno essere veramente attrezzata, non che poi gli anni scorsi non sia stato così. I bianco-verdi hanno comunque una batteria di lunghi atletici, dinamici e solidi. Tutto girerà attorno a Caleb Green, un giocatore esperto che dovrà fare da chioccia. La sua capacità di poter giocare sia lontano da canistro che in avvicinamento consente ai bianco-verdi di variare il proprio gioco, mentre difensivamente coach Vucinic utilizzerà tanti cambi sistematici. Il protettore dell'anello sarà Amadin Diaye, specialista del ruolo. Matt Costello, invece, garantirà dinamicità ed esuberanza, soprattutto energia. Luca Campani, se in condizioni fisiche ottimali, potrà essere un valore aggiunto. Il jolly porta il nome di Demetrius Nichols. Il cestista statunitense, col paccio di Alberani, ricopre il ruolo di alla piccola, anche se negli ultimi anni è vestito i panni della Laforte. Almeno così lo ricordano le recenti esperienze dal Panathinaikos e dal CSKA Mosca con Cucitudis. L'energia e la versatilità sarà il macchio di fabbrica del nuovo reparto di casa Sidigas. E molto importante sarà in questo sistema Demetrius Nichols che, con la possibilità di giocare anche da numero 4, permetterà a Vucinic di abbassare il quintetto e adeguarsi quindi a situazioni complicate, come è avvenuto lo scorso anno, contro determinate formazioni. Grazie a tutti. Grazie.